Spero che anche da parte dei tifosi e dei cittadini padovani anche che possono magari contribuire in maniera così limitata partire con un'operazione di sostegno magari io lo chiamerei una specie di azione di alto popolare. Quindi tutti insieme per salvare i colori del calcio padova in una nuova società a guida del numero uno sanglass Giuseppe Bergamin affiancato da altri ma chissà magari anche da quote di ultra e padovani votati alla causa del bianco scudo proprio come già proposto dai tifosi stessi. Anche piccolo contributo di carattere economico che sarebbe più un atto così di fedeltà nei confronti della squadra della città. L'incontro oggi top secret a Palazzo Moroni. Gli imprenditori che farebbero parte della cordata hanno poi scelto un'uscita secondaria per non incrociare i cronisti. Intanto Penocchio, l'Euganeo, finalmente ha incontrato i dipendenti. Iori passa al Pisa, altra notizia ufficiale. Ottime sensazioni che si possa nei prossimi giorni partire con una nuova realtà che poi chieda l'iscrizione al campionato di Serie D. Una società che prenda tutto. Non vogliamo assolutamente perdere la scuola calcio, dice Bitonci, i più giovani. In ballo c'è anche l'affitto dello stadio Uganio che la società deve al comune. Certo che se dovesse fallire Padova Calcio avremo un ulteriore buco di bilancio che andremo a sommare a tutte quelle scoperte che stiamo facendo in queste settimane e in questi giorni.